ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video come anticipato in uno degli ultimi che ho girato avevo voglia di tornare da Tiger e infatti ecco questa bella busta a tema Halloween questo è lo scontrino e vi dico subito che abbiamo speso 23 euro e sono tutte cosine che hanno scelto i ragazzi e quindi sì poche poche allora comincia dai come al solito ecco un giochino di archeologia questo però non ho capito che cos'è che personaggio è allora kit per lo scavo il gesso rascondo un ufo o un astronauta ecco questo al costo di un euro credo sì 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 questo mi ricordo che era costato un euro infatti poi sì la zucca tante cose a tema Halloween i tovaglioli i bicchieri però noi abbiamo accetto questa zucca posso sì è bellissimo e si ferma da sola ecco vedremo come io vorrei appenderla alla finestra proprio per terrorizzare così e ogni tanto andare lì e scacciare il bottoncino per farla partire poi una cosa veloce dai abbiamo preso le classiche penne dell'altra volta ne ho prese due blu e finalmente queste rosse queste sempre un euro ogni pacchetto e sono convenientissime sì finalmente dopo tante volte che gliel'ho detto l'abbiamo presa questa sera abbiamo la mini macchinetta che l'apro ecco così la e poi abbiamo le caramelle allora la macchinetta è costata perché è costata molto più 4 euro 4 euro 4 euro sì è costata 4 euro mamma sì sì la macchetta 4 euro mettiamola insieme molto bella questa qua poi le scocchetto io e tu ripollo e lo mettiamo però da parte questa è la macchinetta e qua ci sono le caramelle che abbiamo comprato poi le mettiamo ecco le caramelle ogni ogni pacchetto di caramelle sono costate un euro ciascuno no credo due euro sì sì due euro ogni pacchetto questo è qua quindi 4 euro e poi poi alla fine prima di chiudere il video riempiremo le caramelle dai queste le hanno volute tutte e due assolutamente gli occhietti da da struzzo te ne so le posso aprire sì sì apri apri ora ora faccio vedere proprio io un altro tempo esco le altre cose ah comunque queste sono le palline magnetiche a che servono no perché siccome vedo alcuni video dove ci sono quelli che hanno le palline magnetiche e ci giocano ah come mi piace ecco ok allora ecco gli occhietti questi sono costati sempre un euro credo bellissimi sì 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 un euro poi un altro scavo questo sempre due euro invece si vediamo se si vede meglio ok e poi sempre tema halloween questo teschietto a gomma dovrebbe essere una gomma da cancellare almeno così c'era scritto come lo apriamo e poi queste palline magnetiche che io non so dovrebbe esserci il nastrino a tenere dovrebbe essere una gatti verrà問題 A cosa serviranno, non ne ho idea. Vabbè, dai, indirettamente così. Non ci trovo in modo da... Ci siamo riusciti? Facciamo così. Ok. Credo di averci la carta. Forse. Mamma mia, sono morta. Sì, sì, è una gomma da cancellare. Si sente? Sì, mi ha voglia che si sente. Vado a vedere? È pesantissima. Ora fammi provare. Un piccolo teschio. Proprio a tema Halloween. È anche bella grossetta. È pesante. Poi, cioccolatini sempre a tema Halloween. C'è il teschio, il mostro, la zucca. Da questo lato la zucca. Classici i soldini. Questo è il teschio. Poi c'è il fantasmino. Oh, mi sono perso il fantasmino. Ecco. Ecco il fantasmino. Bellissimo. E poi l'unica cosa che sono riuscita a comprare per me è questo qua, il curry. E' una miscela che è rimpolvere di ispirazione indiana. Quindi c'è la curcuma, il fieno greco, i semi di coriandolo, il peperoncino di cayenne, i chiodi di carofano, foglie di aneto, agenti antiagglomeranti e poi può contenere tracce di sedano, latte, e semi di sesamo, conservare all'asciutto e da temperatura ambiente. Comunque, questa bella bustona da 2 euro. Allora, mettiamo le caramelle qui dentro in chiusura di... Ecco, ho capito subito da dove si mettono. Sì, già. Bene. Ok. Aspetta, come le caramelle, le farò uscire fuori. Non le farò uscire fuori. Non le farò uscire fuori. Allora, prendiamo anche le caramelle. Scusa. Le apriamo. Eh, ma così però. Come le entriamo qui dentro senza farle cadere? Aspetta. Sono così incenso. Ci pensa lui. Non ci vuole niente, forse. Guarda che cadere. Ma non ancora entra. Vabbè. Abbiamo capito. C'è la posizione di fuori. Ci dobbiamo passare il tempo a fare questo. Vabbè, come avevo trovato io il metodo era meglio. Scusa quello uno. C'è la posizione di fuori. Di fuori. Sono troppo intelligente. Allora, aspetta, ho trovato il metodo sbagliato. Già. Provaci tu. Ops. Ecco. Che nemmeno il mio metodo di quello milioni. Dai, ci riusciremo fino alla fine. Allora. Possiamo farcela. Sì. Ma ci mettono per ora solo questa busta. Sì, ovvio. Poi queste qua le ho utilizzato. Sì, sì. Poi dopo. questa la raccogliamo e la buttiamo. Mettela là. Allora. Chiudiamo questo video con almeno gli oggettini. Sì. Si chiude. Sì, si chiude benissimo. Ora però proviamolo. Dobbiamo provarla. Aspetta, aspetta. Così. Non la girare. Falla vedere così al video. Gira, vediamo se esce. Aspetta. O è al contrario. Al contrario? Ah, io non ne ho idea. Aspetta. Ah, c'è messo. Sì, sì. Ecco qua. È uscita. È bellissima. No, no. Vediamo se si vede. Ah, nessuno ci ha due. Dobbiamo provarla? Sì, sì. Proviamola. Io ho quella nera. Ho un po' paura sinceramente. Non sono di quelle schifose. Io ho questa qua arancione. Ops. Sembra una piccola banalina. Ci può stare. Sono morbide. No, sono alla frutta. Sì, sì. Sono gomme ricoperte di zucchero a sapore di frutta. Quindi non sono quelle caramelle che fanno pietà. Allora. Spero di non sozzarmi con questa caramella. No. Spostiamo. Ecco, mettiamoli qua. E questi sono tutti gli acquisti fatti da Tiger. A tema Halloween, tutti i giochini, scherzetti. Insomma, questo è il periodo. Di tutto. Ecco, noi vi lasciamo facendovi vedere di nuovo questa piccola zucca che ridacchia. Finalmente è tornato Gabriele nel video. E quindi cosa vogliamo dire? Vuoi fare i tuoi saluti e i saluti finali? O faccio io? Eh, assolutamente fai tu. Allora, come al solito io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Schisciare sulla campanella così non vi perderete i nuovi video quando saranno online. Se vi va di seguirmi nei vari social, nella pagina Facebook, su Instagram, dove condivido più foto, anche una al giorno quando comunque ho tempo. E poi cosa dirvi di più? Io vi saluto e vi auguro una buona giornata, una buona settimana. Ciao! Ciao!